Musica Avanti, buongiorno. Ora, concentrati sulla fiamma, guarda con molta attenzione questa fiamma. Senza muovere la testa, l'accompagni solo con gli occhi. E man mano che guardi la fiamma, comincia a sentire la pesantezza delle palpebre. Gli occhi si chiudono. Ecco, tieni la testa sempre in questa posizione. E man mano che guardi il pentolino sentirai il piacevole peso delle palpebre. Gli occhi cominciano a chiudersi, chiudersi, chiudersi. E restano chiusi. Benissimo, ok. Accendiamo Vincenzo. Bravissima. E ora ti prego di soffiare, avvicinarsi e soffiare. ancora, soffiare, ancora di più, le tue palpebre diventano pesanti, pesanti e gli occhi cominciano a chiudersi. e tu continui a soffiare, le occhi sono piacevolmente chiusi e tu soffi ancora. con molta attenzione guardi il mio occhio destro e mentre guardi il mio occhio destro sentirei le palpebre diventare sempre più pesanti. che i tuoi piedi scendono, scendono, si piegano e tu scendi giù, 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 giù. e in questo momento tutto il tuo corpo diventa... guardi l'occhio destro le tue palpebre diventano pesanti, 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 gli occhi si chiudono. benissimo, benissimo, benissimo ora senti che cedono le tue gambe, cedono che stai per cadere, per non hai paura perché io ti tengo. tengo, 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 spero tutto succede. benissimo e a questo punto raggiungi una posizione indietro, indietro per raggiungere la totale profondità il tuo corpo totalmente piacevolmente chiudersi e restano chiusi, totalmente chiusi. ti viene un torpore nel corpo, qua indietro, 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 benissimo. e questo e questo è il tuo corpo e questo E diventerai una piccola bambina. Molto bene. Intanto ti senti molto lontana, molto lontana, molto lontana. In questo momento è raggiunto la completa anosmia. Completa anosmia. Completa anosmia. Completa anosmia. Completo. Gratissimo. l'impossibilità di percepire odori, l'impossibilità di percepire odori, impossibile, perfetto. Di più, di più, ancora, ancora, ancora di più, trema tutto il corpo, trema, trema, ancora di più, trema, trema, e man mano che trema ti rilassi, ti rilassi, si svuota la testa, totalmente si svuota e tu tremi, trema, trema, ancora. Tutto diventa insensibile, totalmente insensibile. Ti senti veramente estremamente piacevoli, piacevoli, piacevoli. La felicità, la felicità, la felicità. Tanto felicità, che senti intensamente l'amore, questo ritmo della ciaccia, movimenta. Un attimo si apriranno i tuoi occhi e tu li vedrai. Un sacco, tanti, tanti. Vedo che i tuoi occhi... Vediamo i nostri pensieri. Siamo noi che possiamo produrre il paradiso. Una grande felicità. Le sensazioni diventano sempre più intense e sempre più piacevoli. Intense. e non tutto dipende così strettamente dall'ambiente esterno. Tre... Quattro... Cinque... Ora gli occhi restano aperti e restano così. Ora si chiudono di nuovo. Pisolino... Pisolino, fra virgolette, no? Perché, abbiamo detto, non si perde la coscienza. Ma si entra in una dimensione particolare dove... E la psicoterapia non deve essere un'altra violenza. Ma deve essere uno spazio di libertà dove la persona, appunto come abbiamo iniziato, si stacca dal corpo e vola. A piena libertà. Grazie a tutti.